Il progetto è un progetto importante che vede coinvolte oltre 20 partner tra pubblico e privato di cui l'Università dell'Aquila sarà soggetto capofila. Sì, questo è un bando del Moro per i partenariati stesi a forte valenza territoriale. Abbiamo vinto un bando importante per circa 120 milioni di euro che raccoglie 9 università, tutte le università di Abruzzo, Marche e Unglia, poi partner privati e partner pubblici. È un elemento di grande soddisfazione perché è uno degli strumenti attraverso i quali si opererà un rilancio importante di territori che condividono fragilità di tipo demografico, di tipo sismico, di tipo climatico, soggetto allo sovolamento. E' un progetto importante che quindi sarà uno strumento per valorizzare i territori ed attrarre risorse e attività imprenditoriali. Professore, è un progetto che vede coinvolte oltre 20 partner tra pubblico e privato, tante università, parola d'ordine, cooperazione e sinergie all'insegna dell'innovazione. Sì, sì, l'università pubblica richiede questo. La logica della competizione tra università non ha proprio senso. Nel caso specifico questo diventa una necessità considerando i numeri. Cioè se noi mettiamo insieme le tre regioni abbiamo circa 118 mila studenti universitari, in Lombardia ce ne sono oltre 300 mila. 3 milioni e 6 complessivamente i residenti, sapete, i residenti delle altre regioni. Che cosa significa questo? Considerando le caratteristiche peculiari delle tre regioni, ma anche il fatto che ci sia una convergenza molto forte, penso solo al tasso di imprenditorialità, cioè al numero di imprese, circa il 10% in tutte le regioni, il fatto di trovare una strategia comune diventa fondamentale. E ci siamo riusciti, non era scontato. Professore, strategie comuni, sinergie, collaborazione per competere nel mondo del futuro? Una buona pratica, innanzitutto per dire che questo paese non ha solo il nord e un sud, ma soprattutto ha un centro, in cui ci sono tantissime competenze. Oggi qui ci sono nuovi importanti atenei e centri di ricerca e insieme hanno provato a costruire una rete, una filiera dove le competenze e la ricerca possano incontrare anche le strategie di sviluppo di questi tre territori. Ed è una pratica che io spero e sono convinto possa ripetersi in futuro. Oggi noi presentiamo un programma, un progetto di ecosistema molto importante, dove si incrociano insieme la tanta esperienza accumulata nei nostri tenti di ricerca e le grandi occasioni di sviluppo che riguardano i progetti industriali dei nostri territori. Insomma, una di quelle occasioni per cui possiamo essere tutti soddisfatti. Professor Graziosi, docente dell'Università dell'Aquila e presidente della fondazione che porta lo stesso nome del progetto, che coordinerà il progetto stesso. Quali saranno le linee di intervento principali e come si articolerà anche a livello strutturale questo ecosistema? Questo ecosistema è organizzato con un hub che ha il compito di interagire con il Ministero e governare i flussi economici e da distribuire poi agli SPOC e monitorare l'andamento della spesa, verificare che non ci siano problemi e segnalarli rapidamente, qualora ce ne fossero, per portare a soluzione i problemi stessi perché come sapete uno degli assilli, uno dei temi centrali al PNRR è la tempistica, bisognerà chiudere nei tempi stabiliti, non ci sono margini per avere proroghe e quindi questo è uno degli aspetti e dei compiti essenziali. I temi sono quelli che vengono dalle strategie regionali, era proprio obbligo del bando il fatto di partire dalla base delle strategie regionali in termini di sviluppo imprenditoriale e di innovazione. Quindi ogni regione ha fatto questa analisi e l'ha tradotta in una proposizione nella quale gli Atenei si sono messi a disposizione del mondo produttivo e hanno generato progetti di innovazione coerenti con le strategie regionali. Ecco in Abruzzo chiaramente abbiamo operato sugli ambiti strategici per la regione per essere molto sintetici, salute, automotive, aerospazio e cyber security come macroambiti. Marche e Umbria hanno fatto lo stesso, Marche diciamo connotando l'intervento sostanzialmente sui temi degli ambienti di vita, la qualità degli ambienti di vita in termini di salute, di safety, di sicurezza e l'Umbria ha focalizzato gli interventi principalmente sui materiali avanzati innovativi, grafene e altre tipologie di materiali avanzati, questo in estrema sintesi. Grazie a tutti.